Gestire gli incassi e i pagamenti per la tua attività ti sembra difficile e problematico? Riconciliare i movimenti bancari è un'operazione faticosa per te e i tuoi collaboratori. È nato Team System Pay, il primo servizio dedicato alle imprese e ai professionisti, che trasforma il tuo gestionale in un sistema completo, per gestire con semplicità i flussi di incasso e pagamento. Abiliti i tuoi clienti a pagare con un click nella modalità che preferiscono. Ti fai pagare con carta di credito, carta di debito oppure con addebito su conto corrente. E puoi incassare fatture e parcelle, abbonamenti ricorrenti, vendite online e molto altro. E in più, tutte le competenze contabili vengono chiuse in automatico. Con Team System Pay disponi bonifici direttamente dal tuo software gestionale. I dati di importo, IVAN e causale sono già compilati. Non serve aprire nuovi conti correnti e l'operazione di pagamento viene registrata in automatico in contabilità. Team System Pay legge i movimenti dei tuoi conti e tu li vedi direttamente sul tuo sistema gestionale. Effettui ricerche, vedi i saldi aggregati e hai sempre la situazione sotto controllo. È tutto automatico, risparmi tempo e riduci gli errori di riconciliazione con i dati contabili. Cosa aspetti? Attiva subito Team System Pay. Visita teamsystem.com slash digitalfinance slash tspay Team System Team System